e abbiamo anche, dobbiamo anche registrare venerdì 4 ottobre il discorso di Kamenei dopo la morte di Nasrallah, un discorso che ha voluto chiamare all'unione sciti e sunniti, ma quello che sta avvenendo un po' lo sta notando Dario Fabri in maniera molto evidente, dice attenzione guardate che questo ritiro degli Stati Uniti, quantomeno per quanto riguarda questo periodo di campagna elettorale in pratica lascia lo Stato di Israele come unico soggetto regionale con la bomba atomica che comanda e fa il bello e il cattivo tempo e quindi è in grado anche di difendere anche i sunniti rispetto all'Iran sciita e diciamo qui ci sono le divisioni dell'Islam e quindi ecco che da questo punto di vista possiamo dire che si sta proprio realizzando almeno in questa fase di elezioni il fatto che l'ordine del Medio Oriente lo tiene Israele. Ecco Israele vedremo ha anche l'obiettivo di cercare di colpire il nucleare iraniano perché questo è un elemento è un elemento